Al Parco Bologna di Belluno arriva la ginnastica post-Covid, l'Unione Italiana Sport per Tutti in collaborazione con l'Ulss. Ha in programma una serie di appuntamenti dedicati a tutti coloro che volessero rinvigorire il proprio corpo dopo mesi di inattività e sedentarietà dovute alla pandemia. Appuntamento mercoledì prossimo dunque sotto le fronde degli alberi del parco adiacente a Piazza Piloni nel comune capoluogo. Qui cercheremo appunto di raccogliere tutte le persone diciamo della grande età per poter a loro dare l'opportunità di muoversi nuovamente dopo questo periodo di chiusura e restrizioni. Ogni passo conta ed è fondamentale in questo momento dare l'opportunità a tutte le persone, quindi parliamo dai bambini fino alla grande età, la possibilità di muoversi e rimettersi in movimento, non solo perché uniamo anche la socializzazione, possibilità di riprendere i rapporti con i vicini oppure con i conoscenti. Il lockdown e le relative chiusure hanno portato i cittadini a mitigare l'attività sportiva con le relative conseguenze, effetti che tendono a essere sottovalutati ma che sono contrastabili anche con iniziative come quella messa in campo a Belluno. Abbiamo bisogno che a tutte le età, dai bambini agli adulti agli anziani, se vogliamo anche ora chiamarli anziani, si possano riprendere a fare delle attività all'aperto in questo caso insieme. In questi giorni è stato attivato questo programma nella provincia di Belluno presso varie sedi. Come attività è stata fatta sia ginnastica dolce, così come parkour, così come altre attività per ragazzi più fisicamente vigorosi. Insieme per la salute. Vi aspettiamo a partire da mercoledì 1 settembre presso il Parco Bologna a Belluno, dalle 9 alle 10 e mezzo, per fare attività fisica insieme.